Un saluto amici del centro meditaliano. Siamo entrati nell'ultima decada di settembre con tempo più stabile sulla nostra penisola grazie ad un piccolo promontorio di alta pressione. Diamo però uno sguardo a quella che potrebbe essere l'evoluzione meteo fino agli ultimi giorni del mese. Il weekend in arrivo inizierà con tempo stabile ma dalla giornata di domenica l'avvicinamento di una goccia fredda porterà piogge e acquazzoni specie al nord est e sulle regioni del centro sud. Per l'ultima settimana di settembre l'elemento dominante sullo scenario europeo sarà questo vasto campo di alta pressione in formazione sulla Scandinavia. In questo caso avremo un flusso di correnti orientali sul Mediterraneo centro orientale con tempo instabile anche sull'Italia, specie, su settori atriatici e al sud. Ovviamente per la distribuzione più accurata delle precipitazioni occorrerà seguire di volta in volta i prossimi aggiornamenti. Tutto il profilo delle temperature possiamo invece affermare con maggior certezza che rimarranno in media o anche poco al di sotto, con clima dunque fresco soprattutto di notte al mattino. Trattandosi di tendenze sul lungo periodo vi invitiamo a seguire comunque i prossimi aggiornamenti. Un saluto da parte del centro maritaliano.